eccoci due ore e 50 dal rim south rim kebab al ponte che ci porta ad attraversare il colorado river guardate qui che sono 1500 metri di slivello qui entriamo nella galleria eccoci sul ponte lorenzo attraverso il ponte eccoci qua finalmente eccoci eccoci qua il colorado non lo so adesso guardo eccoci il colorado sono le 9.20 siamo partiti alle 6 eccoci qua nella notte questa alba a freddo qui ci saranno circa 30 gradi 27-30 gradi al fiume adesso da qui ci sono due miglia da arrivare al phantom ranch non ci riposeremo per un po' prima di fare i 15 km di risalita non ci riposeremo